Fine del giro di voci e controvoci, fine degli slanci e delle frenate. Dopo giorni e giorni di incertezze e rinvii, Berlusconi ha dunque deciso Forza Italia non avrà un coordinatore unico. Che poi la soluzione originaria, prima cioè che entrasse in scena la figura di Giovanni Totti, direttore di studi aperto e TG4, nei cui confronti si era appalesata, con sempre maggiore evidenza, la contrarietà diffusa, ultima quella di Fitto, dei cosiddetti falchi, protagonisti del passaggio dal PDL a Forza Italia. E se ora Berlusconi ha buon gioco nel far sapere che non c'è mai stata alcuna intenzione di procedere alla nomina di un coordinatore unico, ribadisce invece l'intento di rilanciare Forza Italia, dotandoci di una nuova organizzazione e valorizzando tutta la classe dirigente che in questi anni e particolarmente negli ultimi mesi ha dimostrato, prosegue lui, di saper condurre straordinarie battaglie politiche, affiancandomi nelle fasi più drammatiche della vita politico-istituzionale del Paese. Di scena così è ancora una volta il Berlusconi pompiere, il Berlusconi mediatore, il Berlusconi risolutore di ogni conflitto, lo stesso che ha creato la doppia guida al Milan, divisa tra il fidato Gagliani e la figlia Barbara. Perché dopo aver pagato tributo alla vecchia guardia, il leader di Forza Italia apre contemporaneamente la nuova. Non dobbiamo avere timore di aprire le porte del nostro movimento alle risorse nuove che si affacciano e che vogliono dare il loro contributo al nostro rilancio, in un momento di grande trasformazione della politica italiana verso un movimento aperto determinato a riportare il centro-destra al governo del Paese. L'obiettivo è tenere insieme le varie anime di un partito, chiamata ad assumere un'identità per così dire armoniosamente anfibia, movimento leggero, modello 5 stelle e partito tradizionale, senza smettere di pensare ad Alfano e al nuovo centro-destra. In tal senso sembrano muoversi anche le parole di Gasparri. Chi rompendo con lui ha sbagliato, capirà l'errore e prenderà atto della realtà. Grazie.